Oh questa non lo so, deve essere che la facciamo se devo portarla fuori, secondo me sta qua a Stora e la Mecuccia. Pendenze massime di 18%. Eh va bene dai. Sì che è scritto là. Va bene, andiamo dai. Andiamo. Che problema? Ma sta qua non credo. Le daremo. Dai dai ce la puoi fare. Che provo. 3. 33esimo tornante quello lì sai? Sì. Località Castello. Dai dai va accadì. È dura. Dai dai. È una bestia. Sì ma non arrenderti vai. È una bestia. Vai vai cazzo. Mortirolo. Questo è il versante più ostico del mortirolo eh. Da mazzo. Di Valtellina. È una show. Dai. Dai dai. Dai dai. Dai dai. Guardate come tira questa salita. È mostruoso. Quello lì in macchina mi ha chiesto. Gli ho detto che hai fatto tutti quei passi lì che stamattina hai fatto il gavi. Ha detto beh insomma. Ha detto non so. È tutta forza mentale mi ha detto. Dai vacca di. Dalle prese. Dalle prese. Adesso. Sì come trattore. 25esimo. Mamma. Mi si venda se mi siede. non ce la farai mai, mai come papà, mai si si bravo che ne vuoi nel coraio? posso farlo lì? ma non è una bicicletta quella lì ho fatto il gabbia prima e stevio l'altro giorno è questa? si miracolo si salve meno 4 torno passo progiungendo al ventiduesimo tornante questa qua resterà nella storia del ciclismo no vai vai va a spostarti che non ti vedo eh sei pronto allora a partire? come dice settesimo tornante dai dai 1.342 oh che pieno di manite qua eh e per i corcini qua eh si eh questo non è ciclismo è esploso butai è esploso butai dai 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 Forza! Ciao Bobi! E' qua Bobi! Seguimi Andrea! Dai! Vediamo Bartali qua! Dai! Dai! Non manca tanto! Guardi! Mi ha fatto tutte le dediche! Mi ha fatto tutta la sua robita! Guarda! Guarda! La bandana! Vieni, vieni tra! Vieni vicino! A Marco Pantani! Guarda! A voi passanti, voi chiedo solo un piccolo gesto, un piccolo saluto, un piccolo pensiero per questo grande uomo a cui piaceva farci sognare. Rendiamo omaggio al Pirata e ricordiamo che questa è la sua salita, la sua vetta, il suo modo per farci provare emozioni, emozioni vere, emozioni che provavamo solo da bambini. Guardi! Non sarai mai dimenticato! Bravo! Dai che ne muo la fine! All'ultimo chilometro! Sarà circa l'ultimo chilometro! Oh questo è! Quanti che avete visto in questo mortirolo? Quanti? Dillo! Ti! Ah! Ti! Da uno lo zoени a casa! Mercolo! Ha detto in ... in Sondriese! Hai il secondo tornante! Gli ultimi cinquanta metri! Dai Ghené! Dai, l'ultima, l'ultima volata! impresa storica eccezionale compiuta da cacciatori franco 54 n guarda qua che roba vittoria a parte che in certi momenti di simpe nave fatto anche questa impresa storica penso che resterà nella storia del ciclismo si o non nessuno l'ha mai fatto prima mai e poi la cosa strana è che nello stesso giorno gavia e mortirolo che che non mostri tanti segni di stanchezza e quella la cosa strana la voglio dedicare questa qua il gigi stereocale anche lui era appassionato il ciclismo esatto pronto gigi gigi ok ok dai è stata un'impresa bravo resterà nella storia se io non nello stesso giorno gavia e mortirolo se l'ultima discesa si va a casa impresa compiuta adesso si parte per il passo del tonale e si va a casa andiamo l'ho voluta proprio con la forza hai capito l'ho voluta proprio con la forza mi ce l'ho fatta bravo la forza di guai abbiamo tutti dentro una periferia una ragazza un play per una domenica noi che avevamo sempre voglia di andar via noi che eravamo passi dell'america e tutto era più bello non ci sembrava ma ma come passa il tempo dei vent'anni